L'alimentazione è il miglior rimedio naturale contro l'ulce radiodenale, ma se vuoi conoscere un'altra alternativa efficace e priva di effetti collaterali, posso consigliarti il metodo CONNECTIS, un percorso curativo che ho messo a punto personalmente e che permette di stimolare contemporaneamente il sistema linfatico, quello connettivale e quello neurologico. Il tutto grazie a delle specifiche manipolazioni e frizioni manuali sulla parte del corpo interessata dall'infiammazione e dalla malattia. Questi gesti ben precisi sono in grado di provocare una reazione terapeutica talmente efficace da essere in grado di risolvere anche l'infiammazione cronica più ostinata. Il metodo CONNECTIS può essere imparato facilmente grazie al mio modo di insegnarlo e può aiutarti a dire addio definitivamente all'ulcera duodenale. Non mi resta che invitarti ad imparare il metodo che uso da tanti anni su tutti i miei pazienti. Guarda il video di presentazione del sistema nella parte alta di questo sito o in fondo o clicca sul link posto nella descrizione presente su youtube sotto a questo video. Così potrai capire come questo metodo potrà aiutarti a risolvere in via definitiva questo problema. Ti auguro il meglio. Ciao da Antonio Sacchiero